Uomini e donne anticipazioni oggi, Luca e Salatino sceglie, arrivano a sorpresa. Luca Salatino sceglie Soraya Allam, l'addio al programma di Canale 5. Sarà una settimana ricca di colpi di scena a uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi si appresta alla chiusura stagionale che regalerà scelte, decisioni inaspettate e addi al pubblico attento di Canale 5. Puntuale come sempre alle 14,45, la padrona di casa farà accompagnia ai telespettatori fino alle 16,10 per lasciare poi la linea alla striscia quotidiana dell'Isola dei Famosi. Le anticipazioni della puntata del 30 maggio svelano che la conduttrice chiamerà in studio i due tronisti che saranno pronti per le scelte. Oggi andrà in onda l'epilogo del trono del giovane romano che sarà vestito in modo elegante in vista della scelta. Verranno poi mostrati i best moment con Soraya e Lily, le due corteggiatrici del ragazzo, che di recente ha detto addio ad Aurora. Subito dopo le ragazze verranno fatte allontanare per tornare poi in studio una alla volta. A quel punto il ragazzo chiamerà la alamele e comunicherà che lei è la sua scelta. Anticipazioni Uomini e Donne, in studio torna una vecchia coppia del programma. La scelta di Luca Salatino sorprenderà Soraya che in queste settimane si era sentita messa da parte. Prima a causa dell'avvicinamento del ragazzo ad Aurora e poi per via delle effusioni tra il bar romano e la rivale Lily. La ragazza sarà sorpresa nell'apprendere di essere la scelta del tronista e sarà felicissima. Finalmente si lascerà andare e bacerà appassionatamente il giovane tra una pioggia di petali di rosa. Ci sarà perciò il tanto atteso lieto fine per l'ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, che di recente ha parlato della malattia della madre. In studio per assistere alla scelta ci saranno anche Matteo Ranieri e Valeria Cardone che sosterranno l'amico e racconteranno come procede la loro storia. A quanto pare le cose tra i due ex protagonisti del programma procedono a gonfie e vele. Ci saranno presto altri passi avanti per loro. Spoiler puntata 30 maggio, Lily delusa da Luca, la reazione stupisce. La scelta a uomini e donne genererà però la delusione di Lily. La ragazza ammetterà di aver investito tanto nella frequentazione con il bel romano e non riuscirà a nascondere il suo malumore. Non mancheranno però le parole di Maria De Filippi che riuscirà a rasserenare tutti e confortare le anime ferite. La ragazza ammetterà di professore di Maria De Filippi Grazie a tutti.